Musica Presenteremo alla stampa e all'opinione pubblica una proposta di legge per misure integrative a reddito delle famiglie povere, povertà assoluta ed è un disegno di legge di iniziativa popolare cioè che sarà sottoscritto da almeno 10.000 cittadini siciliani, noi ci poniamo l'obiettivo di raccogliere almeno 50.000 da presentare all'Assemblea regionale siciliana e senza l'articolo 12 dell'Astituto Siciliano. Detto questo chi fa la proposta di legge? La proposta di legge è stata elaborata all'osservatorio sui fondi europei del centro sud di Piola Torre attraverso i gruppi specializzati e specialistici che hanno lavorato sul testo da professor Adamas Mundo, professor Raspina, professor Bellavista a Citarrella della CGL, al Garufi, quindi esperti della materia. La proposta è congegnata in modo tale che a tutte le famiglie che non superano la soglia della povertà assoluta si possa fornire attraverso i comuni, la regione attraverso i comuni una carta di acquisto bene e di servizi che sia integrativa fino al raggiungimento della soglia della povertà assoluta che sono poco più di 800 euro calcolata all'Istat, quindi facciamo riferimento ai dati ufficiali all'Istat. Dalla lista di assistenza sono calcolate 255 mila famiglie in povertà assoluta. La somma che prevediamo di spendere sulla base di questo calcolo è da 70 a 120 milioni di euro almeno il primo anno e poi con la previsione di una riduzione nel caso in cui le condizioni delle famiglie migliorassero. Questo è il senso, il succo della proposta. Il problema è porre all'attenzione dell'Assemblea siciliana il più grave problema sociale di tutti questi anni che è la crescita della povertà. Il 52,3% delle famiglie siciliane sono, come dicono i sociologi, in stato di deprivazione, cioè ci sono molte famiglie che non arrivano a fine mese, non possono pagare la bolletta e così via, anche se non sono poveri in assoluto. Quelle poveri in assoluto sono sulla base del licenziamento il doppio di quanto della media nazionale e quindi è una condizione che dovrebbe essere all'attenzione dell'Assemblea regionale siciliana e del governo regionale. Il provvedimento è pensato come misura integrativa anche di eventuali provvedimenti nazionali, quindi non entra in conflitto con nessun'altra eventuale misura. È l'obiettivo che ci poniamo di far cambiare il senso e il corso della politica, cioè discutendo non dei gabinetti o di chi fa parte dei gabinetti degli assessori, ma dei problemi reali della gente. È un'iniziativa questa di oggi che tende a guardare alle povertà non nella logica dell'assistenzialismo, ma nella logica della promozione umana e sociale del povero che non va inteso come un emarginato su cui chinarsi con compiacenza, ma come una persona che con la sua dignità deve essere messa in condizione di realizzarsi avendo il minimo necessario per poter essere con pari diritti con tutti gli altri.